Ciao, sto preparando una serie di video ben organizzati e finalizzati ad acquisire le principali tecniche di calcolo. Si parte dal calcolo numerico per passare a quello letterale, quindi i radicali e varie tipologie di equazioni e disequazioni. Puoi trovare il link alla playlist in descrizione del video o nei commenti. In questo video risolviamo la disequazione x alla terza meno 4x alla seconda meno 4x più 16 maggiore uguale di 0. Si tratta di una disequazione di terzo grado perché l'incognita ha esponente uguale a 3 ma noi la risolveremo riportandola a tre disequazioni di primo grado, quindi con delle tecniche di calcolo che tipicamente si acquisiscono nel primo anno di scuola superiore. Bene, passiamo alla risoluzione dell'esercizio, qui in alto ho riportato il testo. Notiamo che abbiamo quattro termini con alcuni elementi che si ripetono, ad esempio nei primi due c'è in comune x alla seconda, qui c'è in comune un 4. In questi casi solitamente si riesce a procedere con un raccoglimento parziale poi totale. Infatti se raccogliamo x alla seconda nei primi due termini e un meno 4 negli altri due, notiamo che nella parentesi abbiamo in entrambi casi x meno 4 e x meno 4. Quindi possiamo raccogliere a fattore comune il binomio x meno 4 e moltiplicarlo per x alla seconda, che abbiamo qui, meno 4. Quindi la disequazione iniziale può essere ricondotta a x meno 4 per x alla seconda meno 4 maggiore o uguale di 0. Infine osserviamo che x alla seconda meno 4 è una differenza di quadrati e può essere scomposto in x più 2 per x meno 2. In conclusione abbiamo scomposto in fattori il polinomio iniziale in polinomio di primo grado e soprattutto, cosa molto importante, a secondo membro c'è 0. In questi casi possiamo risolvere le tre disequazioni separatamente e poi sfruttare la regola dei segni, cioè il fatto che più per più fa più, più per meno fa meno e meno per meno fa più. Risolviamo quindi x meno 4 maggiore o uguale di 0, otteniamo x maggiore o uguale di 4, x più 2 maggiore o uguale di 0 che dà x maggiore o uguale di meno 2 e x meno 2 maggiore o uguale di 0 che dà x maggiore o uguale di 2. Ora riportiamo le soluzioni di queste tre disequazioni in uno schema dove riportiamo in alto i tre numeri che abbiamo trovato scritti in ordine, cioè meno 2, 2 e 4 e li ho scritti qui, meno 2, 2 e 4. Non ha importanza che le distanze siano rispettate, l'importante è scrivere i numeri in ordine crescente. Quindi rappresentiamo il segno del primo polinomio, cioè x meno 4 ha segno negativo se x è minore di 4, quindi qui mettiamo meno, meno, meno. Inoltre il polinomio ha segno positivo se x è maggiore o uguale di 4 e qui mettiamo più. In pratica queste tre disequazioni le abbiamo risolte solo per capire qual è il segno del polinomio, cioè per quali valori di x il polinomio è positivo o è negativo. Facciamo la stessa cosa col secondo, x maggiore o uguale di meno 2, quindi metteremo meno per le x minore di meno 2 e più per le x maggiore o uguale a meno 2. Facciamo la stessa cosa con l'ultima, x maggiore o uguale di 2 e quindi meno meno più e più. Ora applichiamo la regola dei segni. Meno per meno per meno da meno. In generale quando abbiamo un numero dispari di segni meno moltiplicati tra loro, il segno finale è meno, perché meno per meno fa più e poi ancora per meno fa meno. Meno per più per meno quindi fa più. Meno per più per più abbiamo un meno solo e quindi fa meno e più per più per più ovviamente fa più. In definitiva abbiamo trovato il segno del polinomio iniziale, quello di terzo grado. Tale polinomio sarà negativo per x minore di meno 2 e per x compreso tra 2 e 4 e positivo negli altri casi. Chiaramente il polinomio sarà anche nullo in x uguale a meno 2, x uguale a 2, x uguale a 4. Ora andiamo a vedere qual è la richiesta, cioè c'è il maggiore o uguale, quindi vogliamo quei valori di x per cui il polinomio sia maggiore o uguale a 0 e quindi dobbiamo prendere gli intervalli con segno più. Più vuol dire positivo, quindi maggiore di 0. In definitiva la soluzione sarà x compreso tra meno 2 e 2, cioè meno 2 minore o uguale di x minore o uguale di 2, vel x maggiore o uguale di 4. Dato che qui c'è il maggiore o uguale abbiamo messo maggiore o uguale anche nelle soluzioni, cioè nei casi in cui la x valga meno 2, 2 o 4 il polinomio vale 0 e quindi la soluzione deve essere inclusa. L'esercizio è terminato, ti ricordo che nella playlist aritmetica e algebra troverai tantissimi esercizi svolti sul programma del bienio della scuola superiore. Ciao e grazie.